eh buongiorno Maria eh vedi ti ho portato qui alla tripalda in via Roma Maurizio ma perché mi ha portato qua alla tripalda eh dove ci sono queste strisce pedonali beh come vedi questo attraversiamo piano piano è un attraversamento pedonale rialzato eh e va bene ma cosa c'è di strano e beh c'è di strano una cosa incredibile sai che hanno fatto lo hanno messo eh proprio dove c'è un parcheggio per i ditabili guarda qua hanno coperto il parcheggio e hanno messo questo eh queste strisce pedonali rialzate eh ma sono degli imbecilli e beh insomma diciamoci la verità chi ha fatto sta cosa insomma ha fatto una stronzata una grande stronzata perché non permette il parcheggio alle persone che stanno in macchina e che sono disabili lo vedete eh lo vedete guardate insomma facciamo un appello al sindaco di a tripalda che è una persona sensibile che possa eliminare questa grande stronzata che hanno fatto capito Maurizio ha proprio ragione gli mando c'è posto per te al comune si mandaglielo eh perché devono assolutamente togliere questa cosa indegna coprire è il parcheggio con delle strisce pedonali non si fa dal di vale tutto più che consigli per gli acquisti sono consigli per una vita civile ciao Maurizio beh ciao Maria